E' stata riconsegnata la Rotonda di Villanova, l'opera voluta dalla provincia di Antonio Zaffiri, costata 220.000 euro attinti da un fondo del 2010 di 900.000 euro. Si prevede che l'opera garantirà una viabilità molto più snella e anche più sicura. Appena due mesi per la realizzazione dei lavori, iniziati a luglio e perseguiti perfino durante le feste di Ferragosto, grazie alla richiesta della provincia la ditta esecutrice, la Facciolini, di accelerare al massimo l'intervento. In questo modo sono stati risparmiati ai cittadini di Villanova altri disagi, dal momento che, per tutta la durata della messa in opera, i residenti sono stati costretti a percorrere una strada alternativa, che li imponeva di salire verso Cepagatti prima di tornare alla propria abitazione. Si tratta di un'opera di fondamentale importanza per una delle strade più trafficate della zona, commentato a Annalisa Palozzo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Cepagatti, che ha ringraziato per la professionalità anche l'ingegnere Luigi Urbani e lo staff di geometri composto da Maurio Di Blasio e Claudio Sablone. Una nuova prova di concretezza, efficienza ed efficacia la definisce invece il presidente Zaffiri, dopo il ponte sul mare Nora, valla a mare di Cepagatti, anch'esso riaperto in tempi rapidissimi. Grazie. Grazie.